Un risveglio turbolento, quello vissuto stamattina dai residenti di Muraglia, che davanti ai propri occhi e a loro insaputa, oltre a già sorretto ripetitore alto 25 metri, hanno visto apparire alcuni operai alle prese con l'attivazione dell'antenna. Nessun'altra sistemazione sicché è stata presa in considerazione in alternativa al sito di Via Beccaria, come invece aveva sollecitato nelle settimane scorse l'assessore all'ambiente Conti. Dunque l'antenna, gestita e installata più di un mese fa da Inwit, società che opera nelle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche del gruppo Telecom, sarà attivata a breve per una durata di 120 giorni. Gratta capo notevole per i residenti della zona, sia per l'impatto ambientale che per il depreciamento degli immobili, svalutati del circa 40%. Il tutto a due passi dall'asilo di quartiere. L'attivazione dell'impianto è la risposta che di fatto smorza ogni forma di dissenso manifestata fin qui dai cittadini, autori anche di una raccolta firme giunta a più di 170 adesioni. Ci lasciano perplesso queste cose quando poi la mattina noi ci troviamo a vedere attivata un'antenna e in prima pagina invece effettivamente c'è un'antenna sul tetto del municipio ma il comune la stoppa subito. Quindi ci viene da chiedere perché effettivamente in quel caso l'hanno stoppata subito e qui no? Perché non c'è stato quel dovuto controllo che ci doveva appunto comunque essere? Perché qui l'ARPAM non è passata. Nessuno degli assessori, nessuno appunto nel sindaco, altri si sono visti o comunque ci siamo sempre tramite messaggi, tramite articoli di giornali. Nessuno si è interfacciato. È nostra intenzione perché effettivamente noi non conosciamo esattamente l'impatto ambientale di questa antenna per esenziare al prossimo appunto consiglio comunale, anche perché l'unica che ha risposto alle nostre domande è stata la Lega, cioè ha riferito di aver fatto appunto due petizioni e che saranno appunto trattate in sede di consiglio appunto comunale. Quindi di conseguenza noi saremo presenti come cittadini. Fino a due giorni fa la risposta era troveremo un altro sito, stamattina la risposta è stata l'antenna resterà attiva per 120 giorni. Quindi decorsi questi 120 giorni cosa faranno? Lasceranno appunto questa antenna e poi verrà appunto riattivata l'occorrenza. E soprattutto in questi 120 giorni chi vigilera? Soltanto effettivamente il comune di Pesaro è da più di un anno che ancora non ha fatto questo benedetto piano antenne. L'unico piano antenne che c'è ad oggi è quello relativo agli impianti di telefonia fissa. Quelli di telefonia mobile non abbiamo nessuna appunto notizia. Noi dall'accesso agli atti dall'aprile del 12 aprile del 2023 l'Inguit ha mandato appunto le relative richieste e autorizzazioni. Aveva 30 giorni appunto di tempo sia l'ARPOM sia il consiglio appunto comunale, il comune, l'assessore all'ambiente per poter appunto vigilare e controllare. Siccome vale il principio silenzio e assenso deduciamo che per il comune per loro va bene. Sicuramente non hanno mostrato la stessa foga che hanno dimostrato con l'installazione dell'antenna a Piazza del Popolo. Ovviamente noi come cittadini dal canto nostro monitoreremo. Ci dispiace effettivamente di questa situazione perché siamo stati lasciati completamente soli. E ancora una volta, ripeto, questo modo di fare, di nascondere quasi le cose, non è bello. Cioè perché effettivamente noi di fatto non sappiamo esattamente che tipologia di antenna è e nessuno effettivamente ha interagito appunto con noi. In questi 120 giorni ci auguriamo che il comune controlli e altrimenti anche noi faremo i nostri controlli con un perito privato se l'ARPOM effettivamente non controllerà e valuteremo appunto il da farsi. Voi cittadini avete mai pensato di portare a processo questa vicenda? Se si presenteranno i presupposti, vale a dire c'è di inquinamento ambientale, sì, assolutamente sì.